Aspettavo un battesimo del fuoco dopo Matteo perché non è certamente, come dire, una questione facile. Però voglio raccogliere la sfida. Io ringrazio Lella, ringrazio tutti i dirigenti del partito. Io non so come si faccia a dire grazie di fronte all'accoglienza per qualcuno che viene da un'altra esperienza, anche se con Matteo lo ricordava bene. La prima telefonata che ricevo nel 2017 quando divento sindaco è del presidente Matteo Renzi. Ci sentiamo poco nel clamore generale, però mi fa specie, come dire, la vicinanza ai territori già in quella prima telefonata. Venendo qui mi chiedevo a tanti amministratori che sicuramente vengono da ogni parte d'Italia, cosa gli racconti per fargli comprendere che non sei venuto qui in vacanza, che è una scelta consapevole e che non sei venuto qui per comodità, perché forse qualcuno di voi lo sa. Lascio il Partito Democratico, anch'io, per motivazioni molto simili a quelle di tanti di voi alcuni mesi fa, per un sindaco che ha una coalizione di centro-sinistra in una regione di centro-sinistra che probabilmente avrebbe anche delle garanzie per il futuro da un partito al 20%, potrebbe sembrare una scelta azzardata. Non è azzardata quando uno segue il ragionamento di Matteo. Lui ha parlato di speranza, e beh io non posso fare altro che raccontarvi chi sono, da dove vengo e per cosa stiamo combattendo nella trincea Taranto, qualcosa l'ha accennata Matteo. Ma al tema della speranza io vorrei associare, sarà contento qualche collega che si occupa di questioni ambientali, il tema degli ecosistemi. Guardate, molte volte, molte volte sempre, è una legge universale dall'infinitamente piccola all'infinitamente grande. Sapete come cambiano gli ecosistemi? Gli ecosistemi cambiano con delle discontinuità, con delle metamorfosi, con dei salti evolutivi. Cioè a un certo punto sia i microorganismi in forma collettiva che le piante, tutto ciò che contribuisce alla direzione di sviluppo di un ecosistema, si trovano davanti a un bivio, fanno una scelta. La speranza si chiama sempre una scelta. La speranza fine a se stessa è un esercizio teorico. E la scelta non è mai una cosa facile. Ha dei rischi, ha dei costi, ti fa cambiare le amicizie, ti fa cambiare il lavoro, ti fa cambiare il luogo dove vivi, dove pensavi che la tua vita avesse come dire un andamento più o meno consolidato. E questa regola della natura, ve la racconterò chiaramente declinata rispetto agli anni che Taranto sta vivendo, ma è una regola che come dicevo è la stessa anche nei gruppi umani, nelle strutture sociali. O qualcuno di noi pensa che la politica non sia come un organismo naturale, che a un certo punto esci da qui, dal teatro Adriano, hai un bivio davanti e devi fare una scelta. Quando diceva Matteo, cosa siamo, cosa rappresentiamo? Io, l'ultimo arrivato, posso dire di avere uno sguardo ancora poco condizionato dalla storia di questi vostri dieci anni, da osservatore esterno, tornando al tema Taranto, come ricordava Matteo, tra chi ci racconta la decrescita felice e magari la teoria del noti mai becchiarde e chi per incapacità, più che per consapevolezza, io lo vedo sulla Fair Ilva ancora oggi, insegue, come dire, l'andamento dei fossili, c'è una terza via che è di nuovo politica ed è una scelta, ed è una scelta rischiosa perché impatta sui posti di lavoro, la devi spiegare alle persone, impatta sulla salute dei bambini, del quartiere Tambuni di Taranto e richiede tempo per essere realizzato quel salto evolutivo. Non ce la facciamo per la campagna delle europee, non ce la facciamo neanche per le prossime politiche, ce la facciamo, quella speranza che raccontava Matteo, la assumiamo come organismo che vuole fare un salto evolutivo nella politica italiana da qui ai prossimi dieci anni, orientando, riorientando le politiche industriali, energetiche e quindi ambientali di questo paese. È una scelta, perché scegliere oggi di raccontare certe cose sull'Ilva non è comodo, è un rischio, ma ti consente il salto evolutivo e se è vero che la paura è quella del Censis, noi dobbiamo dare risposta a quei numeri. Il sindaco di Taranto, ragazzi, vi siete presi un personaggio un po' scommodo, perché viene citato, un po' al pari, dico, io mi rivedo molto in alcune storie che racconta Matteo anche a livello personale, viene citato personalmente, non soltanto come sindaco protempro del Comune di Taranto, d'Arcelor Mittal, il giorno che emette un'ordinanza tentando di fermare, poi il Consiglio di Stato l'ha ribaltata, ma tentando di fermare gli impianti che di quello stabilimento rilasciano benzene. Sapete cosa succede nel benzene? Fonti dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi non di un partito, o non degli amici di Rinaldo Melucci, in città, specialmente al quartiere adiacente alla fabbrica, ogni giorno che c'è un picco di benzene. Bene, la settimana successiva, ci dice l'Istituto Superiore della Sanità, sicuramente l'impatto è registrabile sulla fascia 0-14 anni, torna il Censis, non sappiamo occuparci dei nostri cuccioli, quindi se non facciamo una scelta a quel bivio siamo una specie destinata a estinguersi da qui ai prossimi secoli. In quelle settimane, in quella fascia 0-14, noi abbiamo 5 casi nuovi di leucemie al quartiere Tamburi. D'accordo? Che fai? Fai l'ordinanza, ti metti contro un governo, ti metti contro i poteri forti, te ne freghi e quando torni a casa dai tuoi figli però fai il suono dei giusti e magari ti rovini una carriera politica? O non la fai l'ordinanza? È una questione di scelte. Non sono venuto qui tra voi per amicizia di Matteo o perché mi piaceva il logo e il colore di Italia Viva, ma quella parola viva già dovrebbe evocarvi qualche scelta. Sono venuto qui per insieme a voi, a quel bivio, fare le scelte più difficili per questo paese, per le nostre comunità, soprattutto per gli enti locali. Perché a ragione Matteo, lo dicono gli analisti delle Nazioni Unite, io lo ricordo spesso nei miei speech anche a Taranto, entro il 2050, per la prima volta nella storia dell'umanità, più della metà della popolazione mondiale vivrà i centri urbani. I soggetti decisori e che possono impattare sulla qualità della vita delle persone, entro quella data, saranno certamente le città, le governance territoriali. Ecco perché i partiti che pensano di fare vita romana e non vita di banchetto, come ricordava il Presidente, sono destinati a percorrere poca strada nei prossimi anni. Perché è sui territori che si stabilisce la vita delle persone, si fa la scelta. Vi ho raccontato di quell'ecosistema che a Taranto stiamo provando a cambiare. Nella direzione di che cosa? Mi ha veramente spoilerato Matteo, ma ovviamente di fronte a lui bisogna soltanto alzare le mani da questo punto di vista. Il livello che può consentire a quei territori, una volta rafforzata la governance, di fare un salto di qualità, di nuovo evolutivo, specie nei luoghi dove devi fare la cosiddetta transizione come Taranto, e questo paese è pieno di luoghi come Taranto, di interesse nazionale, è l'Europa, è Bruxelles. C'è un regolamento che viene partorito nel 2021 e nel 1056 che si chiama della transizione giusta. Per l'Italia ha un allegato tecnico che stanzia risorse a sportello dirette per Taranto e il Sulcis, che è un altro luogo che va decarbonizzato. Attenzione a questa parola. Quando parliamo di decarbonizzazione qualcuno pensa, uno voglio togliere il carbone dagli altiforini dell'Ilva. No, decarbonizzare significa modificare strutturalmente un modello di sviluppo territoriale, switchare le fonti energetiche, gli approvvigionamenti verso altre tecnologie, motivo per cui troppo frettolosamente questo governo, dal mio punto di vista, ha accantonato il tema dell'idrogeno verde, dove invece gli altri paesi stanno investendo in maniera risoluta. Bene, la transizione giusta europea si chiama così e non transizione ecologica perché ha dentro lo sviluppo, non è la decrescita felice, è transizione sociale, è rigenerazione dei centri urbani, di nuovo tornano le città, è diversificazione produttiva perché tutte le monoculture, come quella siderurgica, sono un danno davanti al bivio della scelta che dobbiamo compiere ed è giusta perché è rivolta alle persone, rimetta al centro le persone. Guardate a Taranto, in questi mesi io ho anticipato un po' quella strada un po' in salita che raccontava Matteo dei prossimi mesi perché noi abbiamo fatto diventare Italia Viva il primo gruppo consigliare di una città di 200.000 abitanti, non una cosa piccola. Con le pressioni che potete immaginare avendo in coalizione 5 Stelle, Europa Verde, tanti amici che hanno ideologicamente l'idea che Matteo Renzo e Italia Viva fossero pro-ILVA e non pro-Taranto e quindi spiegare che invece dentro alla salvaguardia di una produzione riconvertita, riqualificata, esistesse come dire la via di fuga per la sostenibilità di un'intera comunità, è stato un impegno faticoso e come vi dicevo lo abbiamo affrontato con questa certezza. vedete io spero e credo e questo abbiamo fatto nel nostro consiglio comunale negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, che questa piattaforma che da questa assemblea sta ripartendo, ripeto lo racconto con gli occhi probabilmente dell'entusiasmo di chi vive il primo giorno di scuola e magari a poco riscontro della struttura che poi da qui in giù verso la base si declina sui territori, però ve lo dico con convinzione, sono venuto qui convinto che anche per Taranto, per la mia comunità e per il Paese, perché Taranto è da questo punto di vista un paradigma, un elemento chiave persino della bilancia commerciale del Paese, pensate che Taranto fino al 2012 hanno dei sequestri giudiziari dell'Ilva da sola, la sua area industriale generava un punto di pil dell'intero Paese, tanto per dare un ordine di grandezza e da sola la provincia di Taranto fa il 30% dell'ex portugliese, giusto per dare dei numeri, insomma inquadrare la questione. Ma torno al nodo, sono convinto che a quel bivio Italia Viva, con anche piccolo contributo che possiamo dare da quella trincea di transizione giusta europea, possa rappresentare quella metamorfosi del sistema politico italiano, non soltanto perché intercetta quello spazio terzo, di centro, equilibrato, moderato, riformista, che non si arrende, che genera speranza, come ricordava Matteo, ma perché in quella metamorfosi ci mette contenuti. Guardate, da sindaco mi sono trovato in questi anni, io non ho mai fatto politica, mi chiamano dalla società civile, sono un broker marittimo, nel 2017 prendo trambate di tutti i tipi, anche perché in una regione in cui c'è il Presidente Emiliano, il nostro grande amico, insomma non è facile esprimersi, però ecco a mie spese imparo più o meno quali sono le regole della politica e vi posso dire che ne ho sentite tante in questi anni, nella mia città, nella mia regione, in tante assemblee anche nazionali del Partito Democratico. Manca la scelta, manca sapere chi siamo, dove vogliamo andare. E siccome io oggi l'ho sentito nel discorso invece di ripartenza di Matteo, a quella speranza io chiedo, perché non sono venuto qui in vacanza e non sono venuto qui a perdere una domenica con tanti amici per carità, ma perché anch'io a partire dai dati che enunciava Matteo sono preoccupato, chiedo a Italia Viva questa scelta, questo coraggio di essere questo lievito, questa metamorfosi della politica italiana, perché un sindaco di una città di 200.000 abitanti che ha un miliardo e mezzo di investimenti pubblici per i prossimi dieci anni, che sta trasformando una delle città più complicate del Mediterraneo, non d'Italia, e sta facendo la decarbonizzazione, la transizione giusta europea, venendo da un partito del 20%, non ha nessun bisogno di essere qui se non per trovare quelle motivazioni, per fare quella scelta e la sera tornando a casa dai propri amici, dai propri familiari, dai propri figli dire papà al bivio non ha preso la strada in discesa, quella più facile, ha preso quella per cui qualcun altro fra dieci anni taglierà il nastro della Nuova Ilva, taglierà il nastro della Greenbelt magari a Taranto, taglierà altri i nastri in tutta Italia, nei comuni più piccoli, più grandi, secondo quel principio di coraggio, secondo quel principio di rischio, secondo quel principio che può rendere questa piattaforma, prima ancora guardate dei sondaggi, prima ancora dell'esercizio teorico sullo spazio di centro, quella metamorfosi che forse guardate nel linguaggio, mai nella pratica, poteva essere rappresentata qualche tempo fa dal Movimento 5 Stelle e non è mai diventata compiuta. Voi, noi, credo, se Matteo darà questa direzione, abbiamo tutte le caratteristiche per far fare quel salto evolutivo alla politica italiana da qui ai prossimi anni, sono molto convinto che insieme ai banchetti, mi piace molto, richiama le università, la cultura, al protagonismo dei giovani, questa piattaforma è quella che al bivio fa la scelta che deve fare, la scelta importante, la scelta che serve al paese, che serve ai giovani, che serve a città come Taranto, ed ecco perché sono qui, non per, ripeto, consumare una domenica facile, ma per dirvi che anche da Trincee come Taranto noi ci siamo, ma vogliamo la metamorfosi. Grazie a tutti per l'accoglienza e buon lavoro, buona assemblea.